Come ormai saprete dalle varie news di questa settimana, il game designer di Game Freak, Shigeru Omori, si rappresenta al programma di varietà Pokenchi. Dopo l'immagine trappellata dalla presunta nuova forma di Lycaroc, da parte della copertina di Korokoro, che ricordiamo dovrebbe uscire intorno al giorno 8 agosto, arriva anche la notizia che Omori accompagnerà la trasmissione con alcune scioccanti novità riguardo la serie animata Pokémon e di nuovi giochi della saga in uscita a novembre. Pokenchi sarà trasmesso dalle ore 8 fino alle 8.30 giapponesi, da noi invece sarebbe equivalente a l'una di notte, del 6 agosto ovviamente. Questo per dirvi che stasera saremo in live a partire da mezzanotte e mezza fino all'una e mezza, orari in cui la puntata terminerà. Tra poco verrà programmata la diretta proprio sul nostro canale YouTube, assicuratevi di premere il pulsante in posta per memoria per non perderti l'inizio della live. Insomma è molto probabile che stanotte avremo finalmente la conferma del nuovo, tra virgolette, Lycaroc. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo con un commento qui sotto e come al solito lascia un mi piace se non ti sei stato di tuo gradimento. Condividi il video con i tuoi amici e iscriviti se ancora non lo hai fatto. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, oggi non ci sarà nessuno shiny hunting, però ci vedremo, come detto prima, stasera per la diretta. Ciao allenatori! Ciao allenatori!